In questo video volevo farvi ascoltare come sono riuscito a ricreare il sound di Buckland facendo uno studio approfondito sulla sua sonorità e la sua attrezzatura sia live che in studio. Ho creato 20 preset delay, fads, mild boost, univibe, chorus per il camper, elix e hxtomp per poter suonare in maniera fedele le 20 canzoni più famose dei colplay e chi fosse interessato ad acquistare i miei preset trova tutti i dettagli in descrizione. Nel mio pack troverete anche un pdf scritto in italiano e in inglese nel quale troverete tutte le informazioni su Buckland e i settaggi che ho utilizzato per riprodurre il suo sound anche su altri dispositivi digitali o pedali analogici. Oltre ai suoi segreti troverete anche consigli utili per registrare le chitarre sulla vostra dock. Per la dimostrazione ho utilizzato una Fender Telecaster, un profilo Fender Twin Reverb per camper ed una sua simulazione per elix. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!